Arapacis Abbiamo avvisato che il risveglio, dopo la sbogna delle promesse della campagna elettorale, sarebbe stato duro, anzi drammatico. Già, ma averlo detto non è bastato. Un'intera classe dirigente, non solo quella politica, ad essere sinceri, povera di valori e di idee, avulsa dalla realtà e priva di respiro strategico, più incline al populismo nella faunosa ricerca del consenso facile che al pragmatismo e alla modernità non ha saputo né ascoltare né guardare in faccia la realtà. Ha fatto così per vent'anni, bruciando una stagione politica che ha visto l'Italia scivolare all'ultimo posto tra i paesi più industrializzati e poi sprofondare nella recessione più nera fino al punto di esporsi al pericolo di un drammatico default. Ora, tra le macerie di se stessa e del paese, la politica della Seconda Repubblica ha chiuso un ciclo per mano di un comico capopopolo, oltre che della solita magistratura, il che ci riporta in tutto e per tutto indietro di due decenni. Vent'anni che abbiamo letteralmente buttato via. E adesso? E adesso chi ha la responsabilità di assumere decisioni prima di tutto capisca che siamo nel pieno di una tempesta perfetta in cui si sommano il drammatico avvitamento dell'economia reale con la crisi politico-istituzionale che nasce dall'ingovernabilità prodotta dalle elezioni. Qui bisogna trovare subito una soluzione. PD e PDL, auspice napolitano, si parlino e si prendono la responsabilità di fare un governo. Non ci sono le condizioni per formare un esecutivo stabile e pazienza. Si faccia un governo a tempo con alcuni obiettivi specifici, quali la nuova legge elettorale, o francese o meglio tedesca, e convocazione di un'assemblea costituente per riscrivere in modo condiviso le regole e gli assetti istituzionali. Poi si torna a votare al massimo entro sei mesi e nel frattempo si riconfermi Napolitano. La sua esperienza è necessaria, meglio evitare che nel frullatore entri anche il Quirinale. Persani, Berlusconi, ricordatevi che Grillo i voti li ha presi grazie ai vostri fallimenti, non datene degli altri. Non cercate di inseguirlo sul suo terreno. Queste rincorse abbiamo già viste fare con Verdi e Lega e i risultati a dir poco devastanti dell'ambientalismo comunista e del federalismo si vedono marchiati a fuoco sulla pelle del Paese. Ricordatevi che in gioco c'è la salvezza dell'Italia e la sicurezza dell'Europa. Sigla.